Saranno ripetuti nei prossimi giorni a Gela, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, gli imponenti posti di blocco finalizzati a garantire un innalzamento del livello di attenzione contro la minaccia terroristica. Sulla strada operatori specializzati impegnati con apposito armamento ed autovetture caratterizzate da nuove dotazioni di sicurezza, coordinati dal questore di Caltanissetta Bruno Megale. L'obiettivo è la prevenzione di nuovi probabili attentati vista l'instabile situazione politica e sociale in cui versa l'Europa. Giorni addietro il servizio è stato svolto al lungomare Federico II, dove si è proceduto al controllo di circa 70 soggetti e 40 auto con collegate perquisizioni personali. In quell'occasione sono state levate 10 contestazioni al codice della strada. Sempre la Polizia, nelle ultime ore, nell'ambito di un'attività anticrimine, ha arrestato due persone, ne ha denunciate tre e ne ha segnalate due alla Prefettura. Arresti domiciliari per Paolo Portelli, 44 anni, e per il crocifisso romano di 57. Il primo deve scontare sei mesi per abusivismo, ridizio e violazione dei sigilli, fatto commesso a Gela il 23 aprile del 2013. Il secondo, invece, è stato condannato a due mesi e venti giorni per evasione. L'episodio contestato è datato 21 aprile 2010. Due gialesi di 56 e 55 anni sono stati denunciati per lesioni. Entrambi si sono resi protagonisti di una lite condominiale scoppiata per futili motivi. Un 42enne è stato segnalato all'autorità giudiziaria per distruzione o deturpazione di bellezze naturali ed abusivismo e ridizio. Due pensionati di 79 e 80 anni, invece, sono stati segnalati alla Prefettura perché non hanno prodotto la certificazione medica ai fini della detenzione delle armi, nonostante fossero stati invitati a farlo. Lesioni, danneggiamento, minaccia aggravata ed approvazione indebita sono in reati contestati ad un pluripregiudicato di riesi arrestato dai carabinieri. Si tratta di Francesco Tabì, 57 anni. Numerose erano state nel corso dell'anno le segnalazioni da parte dei familiari dell'uomo, peraltro vigilato speciale, che denunciavano minacce di morte. Sono stati i carabinieri, considerata la pericolosità del soggetto, a chiedere al magistrato di sorveglianza di Caltanissetta la misura cautelare al fine di evitare il ripetersi dei reati. Tabì è stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Trapani, in attesa di scontare la pena di un anno presso la casa di lavoro di Favignana.